Pirkus. Poiola vuole andare sul quarto di campo di Hervey, che finta il tiro a tre, palleggio, arresto e caccia. 3-2 con Johnson in punta, questa volta Tampone rimpiazza bene per chiudere il Magnion, ma si apre ancora una... Milo Steodosic torna a chiamare questo pallone, lo cede poi a Hervey perché è marcato da Visconti, c'è chiaramente un mismatch. L'ottima posizione. E adesso pessima palla persa di Pesaro con Hervey che si invola in uno contro zero. Fa bene Maciura, allora dopo il primo canestro di Macdom si sblocca anche Maciura, poi sulla sirena. Il metro arbitrale è la cosa peggiore, ancora una palla persa da parte di Lumanareira, anche se forse il passaggio di De Nicolaou è stato toccato con il piede. E questo per te viene fischiato, se vai a lasciare cosa è per quella scuola lì, spesso è uno di me. Le sprunta bene però. No, sempre conclusioni forse un po' poco lucide in attacco dall'altra parte. Dal campo della ripresa dell'Umana. E anche De Raffaele insulta dalla parte, diciamo finalmente arriva, qui invece non arriva una. L'imbalzo lungo di Hervey, poi si lancia da solo in uno contro uno per questa volta. Già un paio di volte senza avere successo, prima o poi questa palla sarebbe finita lì. Strapossesso, Paiola cerca di farsi largo contro Philippe che difende bene, e vede allora il taglio di Hervey.